Siamo già a dicembre e non ho ancora pensato ai regali di Natale. Niente paura, vi viene in aiuto il vostro Loretech. In questo video vedremo una lista di regali tech di Natale sotto i 30 euro, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. La scritta attiva Windows non vi fa dormire la notte? Ma niente paura, vi viene in aiuto il vostro Loretech. Attraverso KISFAN potete acquistare chiavi di Windows 10, Windows 11 o pacchetti di Office a prezzi veramente scontati. Vi faccio vedere un po' di esempi. Office 2021 Professional, una chiave a meno di 30 euro, a soli 27,75. Inserendo il mio codice sconto, l'ore 62. Windows 10 Professional a 8,78 euro, Windows 11 Professional a 13,31 euro. Una volta scelta la vostra chiave, aggiungete a carrello, inserite il mio codice sconto l'ore 50 e andiamo a inserire la nostra chiave. Clicchiamo su attiva, Windows è attivo. Semplice, pratico e veloce, tutto in pochi clic. Cominciamo subito con un bel prodottino di In Charge di casa Rolling Square, un porta chiavi con cavo USB-C. Abbiamo diversi adattatori per praticamente collegare e caricare qualunque cosa. Molto bello perché possiamo andarlo ad agganciare alle nostre chiavi con il porta chiave così da avere sempre con noi un multi-tool. Da USB a USB-C, da USB-A a Lightning e tanto tanto altro. Abbiamo tre colorazioni, grigio, argento e oro. Potete applicare anche un 10% e ve lo portate a casa a meno di 20 euro. Altro prodottino. Qua siamo in casa Ugreen. Un case SSD M.2 NVMe generazione 2 fino a 10 gigabit. Bello il case, tutto in alluminio e con questa protezione in silicone. Due cavi compresi nella confezione. Così potete collegarlo sia a computer o portatili con l'uscita USB-C ma anche con la classica USB-A per poterlo collegare praticamente dappertutto. Ve lo portate a casa a meno di 30 euro applicando il coupon. Rimaniamo in casa sempre di Ugreen con un caricabatteria da auto USB-C. Questo ci permette attraverso l'accendisigari di poter caricare altri due dispositivi che sia un tablet o un cellulare. Anche qui ve lo portate a casa a meno di 25 euro applicando un coupon del 30%. Altro prodottino per portare un po' di domotica a casa ma anche per chi vuole cominciare magari ad ascoltare della musica un altoparlante Bluetooth intelligente di casa Alexa. L'Eco Pop l'avete visto sul canale. Ci sono diverse colorazioni. Si trova all'incirca sui 20 euro. Ci sono anche delle skin in silicone che si possono applicare. Potete ascoltare la vostra musica preferita tra Amazon Music, Spotify, Apple Music e tanto altro. Continuiamo. Un libro molto particolare per tutti gli amanti del food scritto da Giovanni Fois, Italy Food Tour. Si trova a meno di 20 euro. Lo consiglio. Ci sono i migliori ristoranti dove lui ha mangiato in tutta Italia. È veramente una cosa diversa dai soliti regalini tech. Continuando, un 10 in 1 kit per la pulizia tascabile. Possiamo pulire praticamente qualunque dispositivo dalle cuffie alla tastiera a parti del PC. Piccolo, compatto, sta in una tasca. Possiamo anche andare a rimuovere i keycaps della nostra tastiera. C'è anche uno spray per andare a pulire i nostri dispositivi tech. Ve lo portate a casa a meno di 13 euro. Continuiamo con un SSD di casa Kingston. Questo è il taglio da 480 giga. Per chi vuole velocizzare i vecchi PC fissi o i vecchi computer se volete espandere la vostra memoria e dare uno sprint al vostro PC. Ci sono comunque anche diversi tagli. Se volete risparmiare potete anche prendere il taglio da 240 giga per circa 25 euro. Continuiamo. Un hub USB 3 indispensabile. Se come me possedete un MacBook Air che purtroppo non ha le uscite USB A e neanche le uscite per collegare SD e micro SD si collega attraverso il cavo USB C. Può essere collegato anche a altri computer attraverso l'adattatore USB A così da avere un multi tool completo. Soprattutto per chi come me magari registra video o ha un drone o una fotocamera ha esigenza di passare velocemente i dati. Altro prodottino Xiaomi Mi Temperature. Ci permette di monitorare l'umidità e la temperatura. È molto piccolo. Si può appendere a muro e anche magnetico. Altro prodottino Mini Power Bank dalla capacità di 12.000 mAh con 3 uscite e 2 ingressi di ricarica fino a 22.5 watt. Così possiamo andare a collegare e ricaricare praticamente qualunque tipo di dispositivo che sia un cellulare, che sia un tablet. Ma i consigli del vostro low tech non finiscono qui. Nei prossimi video vedremo regali tech sotto i 50 euro e regali tech sotto i 100 euro. Per chi cosa aspetti attiva la campanellina, iscriviti a questo canale per non perderti incredibili video. Bene ragazzi come vedete c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma adesso tocca a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che regali tech pensate di acquistare. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da regali tech sotto i 30 euro. Allora tech è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.